Ok, perfetto, andiamo. Oggi a Ciao Como abbiamo il piacere di avere Nicolai Ilin che è uno scrittore, tatuatore che insomma sarà a Cantù giovedì 24, presenterà il suo nuovo libro che si intitola Ucraina la vera storia. Allora, benvenuto Nicolai. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Allora Nicolai, partiamo subito a parlare di questo libro che è stato definito un libro potente e provocatorio. Tu lo trovi, cioè ti trovi in questa descrizione oppure pensi che abbiano esagerato? Ma non so quanto è provocatorio, comunque è una storia basata soprattutto sulla storiografia. Siccome adesso si parla molto dell'Ucraina perché noi in Occidente abbiamo scoperto 24 febbraio di quest'anno con l'intervento militare russo in Ucraina, con l'invasione dell'esercito russo sul territorio ucraino, noi abbiamo scoperto che esiste Ucraina. Quindi la gran parte delle persone prima sapeva poco di questo territorio, non sapeva assolutamente della sua storia e faceva anche fatica di trovarlo sulla mappa geografica. Io ho cercato semplicemente di colmare i vuoti che ho notato che ci sono perché in questi mesi parlando dell'Ucraina immergono molti vuoti nell'informazione degli italiani dovuti in parte alla mancanza della cultura di approfondire che purtroppo ci abbiamo e fa parte dei nostri giorni perché abbiamo informazione che scorre molto veloce, siamo abituati a percepire le informazioni in varianti molto stretti, spesso mancano gli approfondimenti e in parte anche alla propaganda che governa da noi qua in Occidente, dal nostro mainstream occidentale perché in questa guerra noi viviamo in mezzo alle propagande. c'è propaganda russa, quella ucraina, c'è propaganda statunitense, c'è propaganda nostra europea, c'è propaganda anche atlantista e quindi noi siamo in mezzo a queste propagande spesso tirati da una o l'altra nelle trincee ideologiche e secondo me è una cosa importante avere più informazioni obiettive alla propria disposizione per poter creare la propria opinione libera proprio da propaganda. Proprio per questo motivo io all'epoca ho scritto il libro su Putin per permettere ai miei concittadini italiani di capire la Russia, capire Putin, capire quelle che sono le sue intenzioni. Con questo spirito io adesso ho scritto anche questo libro sull'Ucraina per permettere ai miei concittadini occidentali, italiani di mettere a fuoco quello che è l'Ucraina. Infatti questa questione della propaganda è una questione molto spinosa perché molto spesso viene detto tutto e il contrario di tutto. Secondo te qual è l'informazione più errata o comunque meno esatta, perché mi verrebbe da dire così, che è balzata subito alle cronache ed è stata quella che ha fatto più prese in assoluto sull'opinione pubblica? Oddio, qua siamo proprio in mezzo alle storie anche inventate perché noi dall'inizio della guerra abbiamo avuto enorme mancanze su quello che sono le origini della guerra, cioè la famosa frase che spesso vari propagandisti qua in occidente ripetono, ah io non voglio sapere niente, per me è importante che c'è un invaso, che c'è l'invasore e basta e noi dobbiamo tutti schierarsi insomma da una parte o dall'altra. Purtroppo questa gente ignora il fatto che la guerra in Ucraina ha una lunga storia, una storia che è partita ancora prima del 2014, poi c'è stato il colpo di stato che ha portato al potere in Ucraina in maniera anticostituzionale delle forze estremiste, degli oligarchi che ha deliberato il nazismo, la popolazione del Donbass e gli oppositori, i rappresentanti della sinistra ucraina si sono rivoltati contro questo cambiamento incostituzionale del governo, in gran parte sono stati massacrati, quindi ci sono stati massacri veri e propri in cuore dell'Europa, dei quali qua da noi in occidente non si è parlato o si è parlato pochissimo, come ad esempio un massacro all'interno della casa dei sindacati di Odessa, dove sono stati arsi vive le persone, che sono stati persone di sinistra, che appunto hanno manifestato una manifestazione pacifica contro il cambiamento del governo e sono stati massacrati da neonazisti portati in quel luogo, scortati dalla polizia, aiutati dall'esercito e così via, l'esercito ucraino, polizia ucraina ovviamente. E quindi a noi mancano interi puzzle di queste situazioni per poter creare un'opinione obiettiva senza parlare di otto anni di guerra nel Donbass, che spesso la gente quando parla dell'intervento russo, che ovviamente un intervento militare come qualsiasi aggressione a qualsiasi paese è da condannare, però dobbiamo capire anche che cosa ha scaturito i russi per invadere l'Ucraina, perché non è vero quello che dicono che Putin si è svegliato una mattina e come pazzo Hitler ha voluto invadere l'Ucraina, cioè questa è una spiegazione della situazione veramente limitante e offensiva nei confronti dell'intelletto. Putin ha i suoi ragioni, ha ovviamente anche i suoi interessi, però ci sono stati gli eventi che hanno portato lui e il suo paese a questo intervento e questi eventi sono legati strettamente alla guerra nel Donbass, al massacro della popolazione ucraina di origine etnica russa e di origine russofona, che per otto anni sono continuati, nonostante tentativi internazionali di placare questa guerra da parte dei russi, con partecipazione di Francia, Germania, con partecipazione di Bielorussia, ci sono famosi accordi di Minsk che ci sono stati che sono stati saltati proprio per volontà del governo ucraino e quindi se noi non sappiamo, non conosciamo questi puzzle, noi non siamo in grado di costruire una visione obiettiva su ciò che è la guerra. Secondo me nella nostra narrazione manca, nel nostro mainstream manca proprio questa fase di narrativa e poi il nostro mainstream è totalmente privo dei giornalisti professionali nel campo di guerra. Io ti faccio un esempio, quando è scatenata questa guerra, questa terribile guerra, sono apparsi subito i video propagandistici diffusi da diversi giornalisti, anche giornalisti famosi come ad esempio Roberto Saviano, che ha condiviso questo video che è stato presentato come un caro armato russo schiaccia una macchina civile ucraina e quindi ovviamente suscitando indegno, ma come? Cattivi russi hanno aggredito, hanno schiacciato una macchina ucraina, ecco questi sono animali, queste sono le bestie di Putin e così via. Io mi ricordo sulla pagina di Saviano i commenti russofobi che avevo letto scatenati proprio dopo la condivisione di questa notizia. Questa notizia è totalmente falsa e io in effetti l'ho elaborato, l'ho spiegato sul mio Facebook. Intanto non si tratta di un mezzo di difesa antiaerea e di produzione sovietica, in base, fatta sulla base di un cingolato leggero che si chiama MTLB, è un cingolato di produzione sovietica, che i russi non hanno in dotazione, è in dotazione delle forze ucraine e tra l'altro i russi da invasori non hanno neanche interesse di utilizzare un mezzo di antiaerea, perché chi invade non usa l'antiaerea, usa i mezzi di invasione, carri armati, blendati leggeri di trasporto truppe, i cannoni da campo e così via. Ma questo è stato un mezzo ucraino, quindi non è un carro armato e non è russo, è un sistema di antiaereo ucraino e non ha schiacciato la macchina appositamente, si è trattato di un incidente, perché il mezzo ucraino è stato portato sull'asfalto senza avere sui cingoli un pezzo, dei pezzi che si chiamano track d'asfalto, sono delle pastiglie di gomma che vengono di solito montati sui cingoli per evitare che cingoli che sono di ferro, quando raggiungono, quando il mezzo raggiunge 50 km di velocità a 50 km all'ora, i cingoli cominciano a slettare e il mezzo è come se andasse sul ghiaccio. E quindi in questo video, in pratica, un povero soldato ucraino che doveva probabilmente seguire un ordine, ha schiacciato il gas un po' forte, il mezzo è partito, ha slettato e casualmente ha investito una macchina. Ecco, questo pezzo, questo video qua, il nostro mainstream, lo ha diffuso come una vera e propria fake news, l'hanno fatto appunto i giornalisti come Roberto Saviano che hanno pesantemente bombardato con le fake news l'opinione pubblica italiana. Un'altra fake news ad esempio è recente, abbiamo ieri, altro ieri abbiamo rischiato una guerra nucleare, abbiamo rischiato che la Nato interviene contro la Russia in base all'articolo 5 perché tutti i nostri mezzi, tutto il nostro mainstream unanime per quasi dieci ore ha diffuso la notizia è che i missili russi hanno colpito il territorio polacco, mentre io dopo 45 minuti dall'esplosione di questo missile, quando ho ricevuto queste foto e grazie a Dio bisogna dire tra l'altro la nostra fortuna è stata, è che il contadino polacco ha fatto le foto dal posto dove questo missile è esploso e grazie a queste foto diventati verali, diffusi in internet, noi abbiamo scoperto che tutte le notizie che sono arrivati da Bruxelles erano fake news, propagandistiche che incitavano la Nato di agire contro la Russia, mentre il missile e io come una persona che siccome sono stato nell'esercito russo e ho passato diverso tempo lì e la guerra ne ho viste, non solo una, io vi posso assicurare mettendo mano sul fuoco che il missile che è esploso in Ucraina è un missile 5V-55K, un missile vecchio di produzione sovietica che viene lanciato con un sistema di antiaeree che si si chiama S-300, un sistema che ha in dotazione l'esercito ucraino, il raggio di azione di questo missile non supera 70 km, quindi è stato lanciato da un posto, da un luogo fisico che si trova sotto controllo dell'esercito ucraino perché si tratta di un territorio ucraino perché gli ucraini controllano la gran parte del territorio del proprio paese e quindi il territorio che si trova sulla frontiera con Polonia è controllato totalmente dagli ucraini, tra l'altro lì vicino c'è proprio 540esima divisione di forze antiaeree ucraine e io sono più che sicuro che il missile è partito da lì e quindi noi abbiamo rischiato veramente, abbiamo sfiorato un conflitto nucleare per colpa del nostro mainstream, della propaganda, dell'incapacità dei nostri giornalisti di verificare direttamente i fatti dei quali stanno parlando, i fatti che stanno divulgando e qua io posso dire che ad alcuni giornalisti manca proprio buon senso perché lo fanno, sono sicuro che lo fanno in cattiva fede perché sono sicuro che certi giornalisti condividono le notizie false, condividono fake news proprio perché loro fanno la propaganda atlantista in questo senso, però gli altri giornalisti che avrebbero potuto intervenire a loro manca la professionalità, non sanno distinguere un missile dall'altro, questa è proprio la mancanza professionale purtroppo, quando si affrontano le tematiche dei quali non sanno niente. Senti, tu in questo libro volevo chiarire subito che tu non cerchi di convincere le persone, ma semplicemente di dare degli strumenti ulteriori per poter leggere un conflitto che ha scosso un po' tutti, ha toccato tutti, ma probabilmente perché? Per la vicinanza geografica, per i tempi in cui è avvenuto, perché nel 2022 si pensa che non dovrebbero più succedere queste cose, quando sappiamo benissimo che nel mondo ci sono conflitti che durano e dureranno e forse hanno una rilevanza meno mediatica di questo. Quindi il fatto di partire proprio dalla storia, senza concedere nulla, né da una parte né dall'altra, credo che sia un'opportunità anche di crescita, non solo di conoscenza, ma anche di crescita. Tu che sei comunque uno scrittore di origine russa, che hai vissuto e quindi adesso sei a Milano, parli degli italiani come i tuoi concittadini, però tu da russo come ti sei vissuto tutto questo? Cioè tu proprio come appartenente alla tua terra, insomma, come l'hai vissuta anche questo attacco, perché sembra adesso che la Russia sia il male del mondo. Tu come l'hai vissuto? Ma io già vivevo questa situazione in maniera molto dolorosa, perché per me, appunto, tutto cominciato nel 2014, io sono nato e cresciuto a 120 chilometri dal Mar Nero, dalla città di Odessa, e per me l'Ucraina era la seconda casa. Io ogni sabato e domenica con amici andavamo al mare in Odessa con un trenino, con un pulmino, insomma, per me era un po' anche la mia terra. Vedere adesso in che cosa si è trasformata, dilagare questa terribile propaganda del nazismo, ritorno verso le pagine più scure, più buie della storia dell'Ucraina, ovviamente mi addolora. Come mi addolora il fatto che il paese è stato spaccato di nuovo con insinuazioni etniche, quindi si parla di odio che si crea tra russi e ucraini e io ovviamente dal 2014 vivo questa situazione in maniera molto dolorosa. Personalmente io ho parenti in tutta Ex Unione Sovietica, io ho un parente che vive in Kazakistan, ho una parte di famiglia che vive in Russia e in Siberia, ho dei familiari che vivono a Mosca, ho familiari che vivono in Transnistria e ho una parte di famiglia che vive in Ucraina, tra l'altro adesso, e si trova proprio in questa situazione difficile perché non hanno luce, hanno problemi con l'acqua, perché i russi li bombardano continuamente le infrastrutture critiche e ormai questi sono disperati. Per cui io da persona che anche ha vissuto le guerre, già dopo aver visto la prima guerra, quando avevo 12 anni, ho capito che la guerra è la cosa più stupida, più ignorante, più brutale che essere umano ha inventato e quindi io sempre, per questo io sempre sto dalla parte della diplomazia, della pace, degli accordi, piuttosto bisogna rinunciare a qualcosa, bisogna rinunciare al proprio orgoglio, ma bisogna far tacere le armi, perché le armi uccidono soprattutto gli innocenti, soprattutto uccidono i civili, soprattutto distruggono la vita ai più deboli, mentre le classi elevati, le classi più protetti, potenti, loro dalla guerra ovviamente traggono i profitti. Proprio per questo motivo io ho cominciato tra l'altro a raccontare un po' la Russia, ho cominciato, io scrittore dei romanzi, che scrivevo tranquillamente i miei romanzi, io ho cominciato a scrivere i saggi, perché volevo spiegare innanzitutto ai miei concittadini italiani cos'è la Russia di Putin, che cos'è Putin e che cos'è la Russia oggi e quale percorso ha fatto negli anni 90, perché noi oggi abbiamo fatica di capire la Russia, perché pensiamo che la Russia è ancora l'Unione Sovietica, questo spesso capita, io gestisco parecchi blog su YouTube, su Facebook, su Telegram e vedo quando la gente commenta, spesso gli italiani ancora commentano, quando parlano della Russia, nei loro commenti utilizzano le parole sovietico, sovietica, perché per molti è rimasto quello, loro non sanno la metamorfosi che ha vissuto la Russia negli anni 90, la metamorfosi dolorosa, in che cosa è tramutata questa entità geopolitica, cosa è diventato questo popolo, io ho cercato di raccontarla nel libro di Putin, dedicato a Putin e un po' alla Russia e un po' alla storia. Mentre questo libro su Ucraino un po' chiude questa mia ricerca sulla situazione tra Ucraina e Russia, perché qua io racconto il percorso storico ucraino, dove io spiego quando è nata l'identità ucraina, perché a noi spesso raccontano qua in Occidente che l'Ucraina è un popolo, un paese indipendente, è una razza a parte, unità a parte, mentre in tutto questo ci sono molti dubbi, perché la storiografia non conosce queste realtà, la storiografia sostiene tutt'altro, l'Ucraina è stata creata sia come identità nazionale sia come entità geopolitica, per cui io di questi due frammenti della storia parlo di affronto nel mio libro, sto spiegando chi ha creato l'identità ucraina, quando, perché, quali sono stati i motivi, espongo i documenti, espongo quelli che erano le opinioni degli intellettuali dell'epoca, dei rappresentanti di cultura, della politica e poi faccio lo stesso per la creazione dell'Ucraina come un'entità geopolitica, quando parlo dell'Ucraina che ha il suo governo, quando è stato, nessuno sa quando in Ucraina è stato creato il governo ucraino, perché l'Ucraina non è mai stata insomma indipendente, è stata sempre una regione dell'impero russo, punto e basta, quindi amministrata dalla Russia e quando abbiamo cominciato a chiamare Ucraina Ucraina? Questo non sa nessuno, io quando faccio questa domanda ai miei amici italiani, ma anche ai certi ucraini, dico ma scusate, ma voi sapete quando per la prima volta è stata inventata e divulgata questa parola, questo concetto dell'identità ucraina? Perché prima non esisteva, nel Medioevo non c'era assolutamente, o anche nelle epoche più tardi, nel 1800, all'inizio del 1800 non esisteva il concetto dell'Ucraina. Ecco, tutte queste cose le dobbiamo sapere, perché attraverso la conoscenza, attraverso la storiografia noi possiamo avere la visione più chiara e più dettagliata di ciò che avviene oggi. Poi io non mi piace mai convincere le persone di niente o trascinare persone da parte mia. Io sono uno scrittore che è abituato non giudicare, ma dare alle persone, a chi mi legge, più possibilità di aprire la propria visione e poi ognuno decide che opinione avere, perché l'opinione comunque è una cosa molto personale, che dipende dalla nostra cultura, dal nostro modo di vivere la vita, dalla nostra educazione. Io non posso interferire con questi basi degli esseri umani, perché proprio la mia dignità, la mia cultura non me lo permette. Però dare la possibilità ai miei lettori di informarsi in modo obiettivo, io questo sento importante e per questo io ho pubblicato questo libro su Ucraina. Cicerone diceva, storia magistra vita est, laddove, insomma, lanciando proprio un segnale, cioè la funzione ammaestratrice dell'esperienza storica, che è anche un po' quella che ti permette di leggere i fatti sotto una luce diversa o comunque forse con un'obiettività maggiore rispetto al resto. Sì, Confucio diceva che chi non conosce la propria storia non avrà possibilità di costruire il proprio futuro. Quindi è un concetto importante. La storia è l'esempio della vita dal quale noi possiamo imparare. Per questo, tra l'altro, è molto importante mantenere i rapporti generazionali, per questo è molto importante parlare con i vecchi, ascoltare i vecchi. Non dico di dare retta in tutto magari ai vecchi, però è importante ascoltarli, conoscere il loro vissuto, perché questi sono gli esempi che noi possiamo usare per costruire la nostra vita meglio, per evitare ad esempio di fare gli stessi errori. Noi abbiamo purtroppo la storia ciclica, continuiamo a fare sempre le guerre, sempre finiamo nelle trappole dei giochi dei potenti, sempre l'essere umano sempre gira sulla stessa ruota, perché nella propria vita si comporta d'arrogante, non vuole studiare, lascia più spazio magari ai divertimenti, ai piaceri, che alla comprensione della realtà che lo circonde, della quale lui fa parte e per questo un giorno ci sviliamo e scopriamo che c'è la guerra vicino a noi, non capiamo perché e siamo spaventati, siamo preoccupati. Quindi bisogna studiare, bisogna studiare la storia, bisogna stare attenti, bisogna valutare tutto, bisogna fare gli approfondimenti, domandare se stessi e anche gli altri, discutere, approfondire e stare lontano dalle propagande, perché propagande sono quelli che uccidono quelli che sono le opinioni obiettive. Certo, e allora ricordiamo la presentazione di Ucraina, la vera storia di Nicolai Lillin che avverrà giovedì 24 novembre in via Tiziano 5 a Cantù, presso la sede di Arci Mirabello, è una serata dalle ore 21, una serata organizzata dalla Sistente Culturale Sfogliatelle e ci sarà possibilità anche di discutere con te di persona, insomma, di tutte queste cose che ci siamo detti durante questa intervista. Nicolai, io ti ringrazio tantissimo, grazie insomma di questo tuo racconto e ci vediamo il 24 all'ultimo via Tiziano 5 a Cantù. Grazie a voi, ci vediamo. Grazie, ciao.